Il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, ha scritto una lettera al ministro dell'interno Matteo Salvini per porre alla sua attenzione i problemi legati alla mancanza di sicurezza in tutto il territorio. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad episodi di criminalità e stiamo agendo per cercare di contrastare questi fenomeni, si legge nella missiva. Il nostro comune, infatti, ha messo in campo un sistema avanzato di circa 100 telecamere, cui se ne aggiungeranno entro l'anno altre 10. La sicurezza delle persone, però, non è solo una prerogativa della nostra amministrazione, ma degli organi dello Stato. Per questo ho deciso di lanciare un appello accorato a lei, che ne ha la diretta competenza. Occorre una riorganizzazione generale dei presidi territoriali delle forze dell'ordine, in particolare dei carabinieri, e aumentare la dotazione del personale, compresa quella della polizia locale e sottorganico di 100 unità. Sensibili agli appelli dei cittadini, abbiamo convocato per i primi di novembre una riunione che coinvolgerà polizia, carabinieri e municipale per valutare insieme quale misure ulteriori sia possibile intraprendere. Rimane indispensabile l'intervento del Ministero, termina la nota del Sindaco Montino.